Marco Franceschetti, buonasera, bentornato, uno dei responsabili del Teenager. Allora, questa sera abbiamo i finalisti per quanto riguarda... Due finalisti nazionali, sezione danza. E sono, li vogliamo chiamare? Giovanni Ragone e Vanessa Palombo. Giovanni e Vanessa, eccoli qua, i quali auguriamo veramente tanta fortuna attraverso il Teenager, ma soprattutto attraverso la loro carriera fatta di studio e di passione. Prego, possiamo fargli accomodare il brano, praticamente la coreografia, Black and Gold, regia, musica. Grazie Marco Franceschetti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Bravi! I finalisti del Teenager Sessione Danza. Giovanni Ragone e Vanessa Palombo. bravi